La bella infermiera Eh sì Ho sbagliato tutto, non era ancora ora C'era un'altra manche Ma pensi, ero convinto fosse lui Un jolly per Gianluca che può girare ancora la ruota Lo metto io qua, non si vedeva che pisca Lo metto io qua, non si vedeva che pisca Vado avanti L'opera chiamavano Baldacco, dal nome appunto di questi dratti Da cui nacque poi la parola Baldracca Penso che no, Baldacco senza la R Una colonna del Milan Consegnerà il premio il presidente della FIA Della FIFA Jao Havelan Non ho detto FIA Mi sono fermato prima della FIFA Ho detto FIFA L'hai detto, l'hai detto Consegna il premio il presidente della FIA Jao Havelan Mi piace Senza offese, ma devo dire una parola Fesso Lei piace Quindi non mi deluda Tu sei un bel fico al femminile Possiamo dire È nata così, hanno detto Io non l'ho detto però, eh Attenzione E tu vai che sei un bel banano Miriano Miriano, fai vedere il tuo telaio Ecco E adesso fai vedere le tue sospensioni No, quelle non sono le sospensioni Tuo camerino qua, quando bussano, mi hanno detto Ma qui il camerino Inviti tutti dentro No Non credo No, no Sono la mia sarta La mia costumista L'aiuto costumista La mia truccatrice E la mia parrucchiera E se io busso? Prima mi vesto e poi ti faccio entrare La verginella Adesso tocca a lei Britney Spears Chissà mai chi è questo signore Portapora La signorina Questa signora, sì Lei ha tutti i suoi denti No Disgraciatamente no Purtroppo Ma non ha la dentiera lei Pezzetta Pezzetta? Eh ma no, allora non ha la dentiera Pezzetta Anch'io c'ho dei punti Pezzetta Potete scrivere Dove devo scrivere? Alla ruota della fortuna Casella portale 4420093 Cologno Montese Ogni volta che porto questi vestiti così Mi fa il solletico mentre parlo Ok La verginella Abbiamo nella prima posizione Un po' di allegria Cara signorina Giubbi Perché se mi viene con quella faccia lì Non va mica bene Avete una piuma qua Così le fate un po' di solletico Ma cosa è venuto a fare qua? Scusi gira la ruota Deve dire una lettera Non dice la lettera E gira la ruota Era ora che se ne va da casa Era ora Il suo nonno lo conosce perlomeno Io però non ho Sarà un bel nonno anche No non ho più Non ce l'ha più Scusatamente no Beh è in paradiso E il mio nonno è siciliano Ah nonno siciliano Di dove era? Di Palermo Di dov'è? Di dov'è vivo Come si chiama il papà? Enrico Signora Enrico la ringrazio Veramente molto gentile Deve essere un classico uomo all'antica Quelli di una volta che vanno scomparendo Ok La ringrazio tanto Signori Che vanno scomparendo Dove avete capito voi? Matteo metti il casco quando vai in moto eh Altrimenti perdi altri capelli E andiamo con Contro la A di Anzio La cosa La A di Anzio La A di Anzio Capito E' fuori Vi rendete conto che io dovrei prendere Sono in pallone Martellati Sono in pallone Agli anziani non si toccano Sono nel pallone Sono nel pallone Questa qui è una cravatta che è importante in questo momento mi diceva Perché? Perché ogni anno viene fatto un concorso per la miglior cravatta dell'anno Questa è il campione in carica Campione in carica Questa sarebbe la cravatta campione La cravatta campione Figuriamoci le altre In che senso? Non le piace No nel senso del pelle Non le farei mai Meno male Allora bisogna accendere l'apparecchio Poi si deve premere qui Uno, due, tre E dovrebbe partire la musica Ecco invece non parte Allora Vedete questa storia qua degli apparecchi che si spengono Io non so che c***o fare Deve essere acceso Sì va bene ma perché deve fare così? Eh ma era spento Si era spento nel frattempo Sì lo so va adesso Ma tu ci hai lavorato per un'ora Io ho tre secondi per farlo partire Dai ragazzi per favore Mettetelo in modo che premo un bottone e parte Ok adesso lo fermiamo Stop Questo per quanto riguarda il system file Mentre invece dall'altra parte che cosa abbiamo? Andiamo a vedere Dall'altra parte abbiamo Eccolo qua Questo è il Ragazzi guardate Io non posso far partire sti strumenti Ho fatto esattamente quello che mi avete detto prima E non è partito Ma L'ho acceso Ho premuto questo Ma non si può Ma non si può Dai Ma abbiate pazienza Io non me ne Io cosa c'entro? Allora metteteci una persona qua Che fa partire gli strumenti Dai Io non sono mica uno che deve imparare a suonare gli strumenti Senti Mario Per favore Piantala eh Non siamo degli imbecilli Non siamo degli imbecilli E non sono degli imbecilli Grazie a tutti 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 Grazie a tutti